Gentili telespettatori ben ritrovati a Spazio Reteo, siamo qui per un nuovo appuntamento con la trasmissione che è in onda da Reteo, il nuovo store che è aperto da un po' qui a Giuliano in via Cataste questo pomeriggio mia ospite Gena Iodice, chef della Marchesella, ben trovata Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito Sicuramente la conoscerete, noi di Teleclub Italia l'abbiamo intervistata più volte in varie occasioni per vari eventi stavolta non c'è un evento in particolare per cui insomma intervistarla ma lo facciamo per conoscere un po' meglio Gena quindi conoscerla anche al di là di quelli che sono i fornelli e la cucina che è poi il suo habitat naturale lo possiamo dire partiamo subito da una foto perché come ormai sapete la trasmissione si svolge appunto vedendo delle foto io mostrerò delle foto che ho pescato in questi giorni appunto di Gena e ne parliamo un po' assieme per una chiacchierata partiamo da una foto che è una foto di un fatto recente sei tornata da pochissimi giorni da Slow Fish sì una bella esperienza sì sì è sempre una bella esperienza essere nella grande famiglia Slow dico io perché io ci sono da un po' di anni ma Slow Food Movimento Nazionale diventa internazionale grazie a Carlo Petrini e forse lo conoscete anche come Osteri d'Italia nel senso che a Slow Food è correlato tutto un mondo particolare che è anche Slow Food Editore e Slow Fish è un evento che si tiene ogni due anni come il Salone del Gusto come il Cisabra dove ci si riunisce e ci si batte e si mette in evidenza per tutti quelli che sono i problemi correlati un po' al cibo al mondo e quindi in questo caso Slow Fish è solo per il pesce quindi per la sostenibilità del buono pulito e giusto che tanto abbiamo citato anche altre volte in altre interviste e soprattutto lo si fa a Genova, grande città marinara dove arrivano un po' tutte le regioni d'Italia e manca a farlo apposta quest'anno ci sono stata anch'io proprio sotto lo stand della regione campana ti hai cucinato? ti ho vista ai fornelli che cucinavano lo spaghettino abbiamo fatto vari interventi, vari laboratori anche perché c'era tutto un discorso anche sulla legalità del mare ho conosciuto l'assessore all'ambiente del litorale Domizio io ho detto se sono contante ci conosciamo a Genova siamo vicini di casa ma anche questo succede nel nostro girare e quindi ho cucinato in una prima parte c'era questo spaghettone di Di Martino con un piatto mio con le alici del Golfo di Pozzuoli anche perché noi portiamo i territori quando ci muoviamo in questi contesti in abbinamento con la mia regina delle mene che è la melannurca la tua amata melannurca la melannurca con alici, pinoli, cappere, olive e melannurca e pane raffermo poi c'era una zuppa che era la zuppa di cicerche la cicerchia flegrea sempre della nostra zona di Bacoli con le cozze anche di Bacoli e i crostini di pane aromatizzato con rosmarino timo maggiorano vabbè insomma questa è l'extravergine a crudo poi c'era una velutata di piselli centogiorni te li dico tutti perché ci tengo molto a questi piatti i piselli centogiorni sono dei piselli del presidio e esistono cioè sono solo in questo periodo avevamo perso, l'abbiamo ripresi e le ho fatti quindi una velutata di piselli con una stracciata di mozzarella di bufala era proprio il tema della legalità del litorale Domizio e quindi per mettere insieme quelli che sono questi territori col gambero crudo di Punta Campanella e poi l'ultimo era questo vermicello sempre di Gragnano con cozze, un pesto di basilico e provolone del Monaco e vabbè già ci ha fatto venire il languorino così solo a citarli però andiamo avanti spediti con la prossima foto che è un altro successo nonostante insomma non hai vinto hai partecipato ad una sfida una sfida televisiva importante perché sei stata ospita e hai rappresentato la campagna a Cuochi d'Italia il programma con Alessandro Borghese che emozione è stata arrivare in una tv nazionale è stata una grande emozione ma soprattutto non tanto per me questo lo dico e sottolineo e ribadisco per la mia Giuliano perché io non ho chiesto di partecipare sono stata scelta e sono stata selezionata tra 15 Cuochi Campani a rappresentare sui 15 campani hanno scelto me hanno scelto loro non ho chiesto nulla ho rappresentato la campagna sono arrivata in semifinale ma soprattutto non potete sapere quanto è stata grande la gioia di quando non solo hanno detto Gena Iudice ma non tanto per il nome quando hanno detto Gena Iudice che arriva da Giuliano mi sono emozionata ancora di più che una volta tanto Giuliano sugli schermi nazionali poi ne parliamo di questo legame viscerale con questo territorio che poi alla fine penso ognuno di noi ama e odia contemporaneamente per i pregi e tanti difetti cerchiamo di amarlo di amarlo soprattutto più che odiarlo ci proviamo ci proviamo però poi un po' di amaro in bocca ti è rimasto qui in questa sfida mi è rimasto un po' di amaro sì mi è rimasto un po' di amaro perché io dico sempre che questo l'ho detto a mio figlio appena siamo arrivati dice mamma perché tu arrivi qua a Milano fresca fresca vuoi vincere dico francesca a mamma guarda c'erano tutti i miei due figli Francesco ed anche Antonio che mi hanno accompagnato e io ho detto ma i giulianesi non partecipano che perdere noi giulianesi partecipiamo per vincere quindi e quindi la mare in bocca c'è rimasto un po' vabbè ma Calabria Calabria e vabbè dai sempre sud sempre sud sì andiamo avanti un'altra bella soddisfazione vabbè questa che vediamo in questa foto che è quello di essere all'interno sì selezionata fra le osterie d'Italia sì questa vabbè noi siamo sulla guida delle osterie d'Italia guida di Slow Food editore come dicevo dove ci siamo con il massimo riconoscimento della guida che è la chiocciola la chiocciolina di Slow Food è un simbolo come per gli stellati ci sono le stelle per noi c'è la chiocciola c'è anche la bottiglia e formaggi ma la chiocciola è il massimo riconoscimento della guida di un locale che fa rete che fa territorio che fa promozione che fa convivialità che sposa quello del cucinare bene del buono pulito giusto come dicevo prima ma soprattutto di persone che amano quello che è il proprio territorio e cercano di farlo con passione quello che è il loro lavoro e riavere la chiocciola perché per un motivo burocratico che non so che spiegare c'era stata tolta poi ce l'hanno ridata ed è stato un piacere poi ritirarla proprio al salone del gusto infatti mio figlio era quello più gasato l'avete pure visto forse sui social quando è andata a ritirare quindi è stata veramente una bella emozione ma io posso dire che cono senza chiocciola questa chiocciolina la porto nel cuore da sempre da quando Petrini me l'ha data negli scavi della palestra grande di Pompei al congresso mondiale Slow Food dove ho fatto una grande pasta e fagioli con i fagioli di Villa Ricca una pasta miscata eccezionale per 1200 personaggi che arrivano da tutto il mondo non erano proprio pochi e poi c'erano pure un'altra cosa a cui tengo molto perché Giuliana ha una grande tradizione anche di carciofi e di scarola e quindi ho fatto per quell'evento 300 scarola la carrettiera nostro fiore all'occhiello nostro significa mio e delle mie sorelle e di mio fratello a Piazza Annunziata e con i carciofi arrostiti per i vegetariani per i vegetariani andiamo avanti altra foto fino ad oggi diciamo abbiamo visto fino adesso abbiamo visto tutti i successi della tua carriera personale insomma in cucina hai avuto ecco riconoscimenti anche anche in tv nazionali in contesti molto ampi la foto che ti faccio vedere adesso è di un altro locale che tu hai avuto qualche anno fa fino a qualche anno fa per poi ritornare nella casa d'origine che cosa ti ricordi di questo periodo è stata una nuova sfida quella che hai intrapreso sì 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 ricominciare ma non da capo perché voglio dire la compagnia del ragù forse era è sempre stata dentro perché i nostri locali sono un po' le locali di accoglienza e quindi anche il nome è cambiato in questo motivo perché nuova sede non peraltro era la compagnia del ragù come luogo dell'anima dove la gente si potesse sentire a casa ma noi di questo ne abbiamo sempre fatto un punto di forza dell'accoglienza quindi il ragù come piatto che accomunava le famiglie la domenica a tavola e in questo periodo sicuramente è fatto in un'altra sede in un altro momento ma comunque ci sono ben ricordi anche lì lì ho fatto la cucina geotermica ho investito su questo brand ho cucinato con i vapori della solfatara la prima volta ora la solfatara vabbè lo fa da solo ma abbiamo iniziato proprio in quella sede e quindi ci sono anche lì tanti bei ricordi e belle emozioni anche poi però sei tornata all'ovile diciamo sei tornata alla casa primaria alla casa originaria in via Marchesella e la foto che vediamo adesso è una foto nella cucina dove sei circondata dalla tua brigata quanto è importante una brigata all'interno di una cucina fondamentale è fondamentale perché io più che dire brigata questo è il termine tecnico che usiamo noi per dire brigata vabbè lo usano anche altri enti ma la brigata di una cucina è una famiglia è un luogo dove tu passi la maggior parte delle tue ore dove ci deve essere sinergia ci deve essere passione ci deve essere sacrificio ci dobbiamo guardare negli occhi e ci dobbiamo capire anche senza parlare e quindi il portarti magari all'ultimo momento cioè ci si guarda le spalle l'uno con l'altro infatti io dico sempre ai miei ragazzi dico guardate che io da sola non potrei tutto fare in questa cucina ho bisogno di tutti voi dell'aiuto e io dico che nella mia cucina non ci sono i gradi non ci sono le stelle ma ci sono tante persone che amano il loro lavoro che lo fanno con professionalità umiltà e competenza questo però lo si può fare quando la squadra è guidata da un leader che non pensa solo a se stesso ad emergere ma ha la capacità di dare e di dare il suo sapere agli altri cosa che tu sicuramente riesci a fare io questa cosa l'ho sempre voluta l'ho voluta fortemente considera che mi è infatti venire in mente una cosa io rappresentavo al Salone del Gusto di un po' di anni fa a Villa Sassi sulle colline di Superga la Campania molti anni fa e praticamente io arrivai lì con io mio marito e un mio aiuto eravamo in tre per far mangiare 150 per su un menù molto articolato ma lì io trovai una bella accoglienza una bella squadra e alla fine io feci uscire questi ragazzi che erano torinisi un pochino chiusi insomma loro non volevano uscire perché erano abituati in questa grande struttura molto bella Villa Sassi si chiamava e si chiamerà esisterà ancora e praticamente io dissi no voglio che questi ragazzi che mi hanno aiutato escano da questa cucina perché ve li devo presentare uno a uno perché senza di loro noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto e quindi questo la dice un po' lunga sul fatto che io cerco di sempre di coinvolgere i miei ragazzi di farli uscire molti si vergognano buona scia alla fine delle serate però molti tra cui uno dei figli poi ne parliamo poi ne parliamo anche del figlio dei figli di entrambi ultima foto prima di fermarci per una breve pausa ti faccio vedere questa foto non tanto insomma per parlare del prodotto in sé ma voglio anche che ne parliamo perché questo prodotto ha poi anche una storia familiare no? e poi affrontiamo meglio anche questo capitolo però per parlare appunto del tuo legame con questo territorio cioè tu ovunque vai porti avanti il capicollo giuvianese la mela annurca giuvianese la pasta e fagioli cioè hai un legame viscerale come dicevamo prima con questa città o comunque con questo territorio e provi grazie alla tua professionalità a farne venire fuori tutto il meglio sì ma non è che io ci provo io ci credo che ancora è nata cosa sì Giuliano ha sempre fatto c'è c'è pure in una in una famosa canzone del parano compagni di canto popolare quando si dice meglio cantare Sanna Giuliani di Ravistolo Sanna Casale Femme Rebelle Son Napolitano Capo Gole per dire che noi abbiamo sempre avuto questa tradizione del capicollo giuvianese delle mele annurche e perché non continuarla ad avere perché qualcuno dice sempre che i giovani vogliono fare altro non è vero non è vero io vi posso dire che ci sono tanti giovani che ce la mettono tutta per recuperare queste tradizioni e oltre al capicollo lì in quella foto c'è un'altra bella cosa a cui tengo molto ma io so che è la pancetta questa la pancetta la faceva il mio papà la faceva la facciamo noi la faccio io la fanno le mie sorelle la fanno i miei fratelli perché forse questo papà faceva anche la salsiccia secca faceva un poccata così più capuculla o prosciutto tutta una serie di cose fantastico muzzariello un muzzariello quello lo facciamo il soffritto ancora lo facciamo noi ma soprattutto alla pancetta e al soffritto ci teniamo particolarmente perché ci ricorda tanto il mio papà come si fa non lo devo dire forse non so non è questa la sede ma ancora noi la facciamo con la cotenna molti salumifici la fanno senza la cotenna perché deve essere più semplice da affettare no Enrico Casia a Coten c'è sempre stato deve continuarci ad esserci questo è un mio pensiero molto personale non voglio dare insegnare nulla ai macellai o a quelli che fanno questo però veramente posso dire che il ricordo di quando a Pasqua si ingegnava a pancetta che fava che va e noi cerchiamo di mantenerle queste tradizioni perché sono dentro di noi e il ricordo della memoria delle persone ci aiuta attraverso i gesti che magari compiamo ricordandoli e sperando che i nostri figli possano continuare questo è il mio augurio però insomma se la pancetta o il capicollo o il soffritto di Fenesta Verde della Marchesella o comunque di Fenesta Verde in generale è rinomato un motivo ci sarà quindi significa che ne vale la pena poi questo lavoraccio che c'è che c'è dietro per la preparazione noi ci fermiamo per una brevissima pausa restate con noi perché dopo invece affrontiamo un po' la Gena al di là dei fornelli a tra poco grazie